Il prete è la gioia. La gioia è il prete è un po' l'aspetto su cui vogliamo iniziare a riflettere e prendendo un po' di spunti, un po' di citazioni, qualche episodio che è contenuto in questo testo di Don Alessandro Pronzato, Il prete è la gioia, che ha curato Monsignor Leonardo Sapienza. Un libro che veramente consiglio non solo ai preti, ai diaconi, alle suore, ai consacrati, ma ad ogni cristiano, ma ancora di più ad ogni uomo. I cristiani di oggi sono sotto processo. I cristiani sono stati sempre sotto processo, ma ancora più i cristiani di oggi. Sapete perché? Perché hanno tradito la gioia. Queste parole non sono le mie, ma sono di un grande letterato cristiano, poeta, Luigi Santucci. I cristiani di oggi hanno tradito la gioia. Un non credente, ma intellettualmente onesto, Nietzsche, invitava già ai suoi tempi i cristiani ad essere amabili, ad esprimere gioia. Ma sentite che cosa dice Santucci. È provocatorio quello che dice, ma tutta la sua opera, tutto il suo pensiero è provocatorio, come in genere sono provocatori i convertiti. Dice, è inutile predicare agli uomini il dolore, perché il dolore è una screditata leggenda. Nessuna minaccia fermerà il peccatore, perché più forte del peccato, più forte della fame e del sesso, più forte dell'uomo e dell'angelo, c'è soltanto la gioia. Che cosa dovreste fare? Affascinare dovreste. Fare delle processioni più belle delle danzatrici luccicanti di Montmartre a Parigi, fabbricare delle campane più melodiose di Strauss, incensi più alezzanti delle bocgette di Pinot e di Saint-Germain. Questa espressione, come vi dicevo, hanno il sapore di polemica, però hanno dentro una grande verità. Ciò che molte volte converte, cambia il cuore degli altri, è la gioia. Ma attenzione che qui non è la gioia del mondo. Non è, come dire, quella gioia senza pensieri, la gioia di chi non ha problemi, la gioia di chi sta bene, di chi ha soldi, di chi ha successo. No! Anzi, in queste persone, lasciatemelo dire, l'ho detto già altre volte, io in poche persone di questo tipo ho trovato la vera gioia. Qui la gioia vera è la gioia della croce, del farsi dono. Noi spesso presentiamo Gesù sulla croce triste, addolorato, eppure quella è la fonte della gioia. Dovremmo presentare un Cristo gioioso, un Cristo felice di donare la vita per amore, per te e per me. Vi aspetto domani, parli più a TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!